Vi ricordate quando mesi fa il ministro Quagliariello, che è il nostro ministro per le riforme costituzionali, diceva che c'era bisogno di riscrivere quel patto tra politica e cittadini che si era incrinato? Bene, il metodo che questi partiti stanno utilizzando per riscrivere quel patto è un metodo che secondo noi è una vera porcata. Che cosa succederà questo weekend? Raccontiamolo alla gente. Questo weekend, in quest'Aula, verrà approvato molto probabilmente la formazione di un comitato bicamerale per le riforme costituzionali. Cosa significa questo? Significa derogare al normale metodo di cambiamento della nostra Costituzione e di riforme costituzionali, che è l'articolo 138. L'articolo 138 prevede delle misure molto più rigide e importanti rispetto alle leggi ordinarie, perché per modificare la Costituzione i nostri padri costituenti hanno previsto un metodo diverso dalle classiche leggi. È già stato utilizzato il 138, già abbiamo avuto delle riforme costituzionali in questo Paese. Non si capisce perché adesso ci sia bisogno di creare un comitato per le riforme costituzionali, non scelto dai cittadini, ma nominato sulla base di non si sa quali motivi. Bene, noi ci siamo opposti a questa riforma perché capiamo benissimo che il fine di questo governo è, uno, prendere il posto del Parlamento, e due, cambiare la nostra forma di governo per arrivare ad un semipresidenzialismo. Già il presidenzialismo lo vediamo di fatto perché è il governo che sta dettando le regole in questo Paese, senza pensare alle vere riforme che servono per la disoccupazione, per l'economia, per risollevare i giovani, per le pensioni. No, la priorità ora è riformiamo la Costituzione, pensiamo alle modifiche della nostra Costituzione. Noi a tutto questo ci opponiamo e vi chiediamo questo weekend di esserci perché daremo battaglia all'interno di queste aule, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini. Noi già a luglio siamo stati chiusi dentro la Camera dei Deputati tre giorni interi per fare opposizione al decreto del fare e per chiedere che la votazione sulla proposta di deroga all'articolo 138 fosse spostata a settembre. Ce l'abbiamo fatta, siamo però arrivati ad un punto in cui non c'è più solo tanto bisogno di fare opposizione dentro alle aure, ma c'è bisogno anche di far sentire la propria voce fuori dal Parlamento. Quindi noi faremo una banchetta in Piazza San Silvestro, qui davanti a Montecitorio, usciremo per raccontarvi ciò che succede. Informatevi ed informate tutti su quello che sta accadendo. Grazie.